Oggi, mercoledì 28 gennaio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Sono quattro i troni in studio, due per Andrea e Teresa, gli altri per i nuovi tronisti, ma prima Maria introduce Tina Barra la esamina lì che si produce nella formidabile New York. New York dopo l'ingresso di Sharon e Valentina Maria annuncia la scelta dell'emozionatissima Teresa elegantissima e l'arrivo di una nuova tronista, parte il filmato della sua presentazione e quindi Valentina che viene da Bologna e a 21 anni fa il suo ingresso in studio per cominciare la sua avventura, mentre scendono. Per l'appuntamento al buio i ragazzi. Rewind di Andrea e la sua situazione con Sharon e Valentina, subito dopo la scorsa puntata lui raggiunse Valentina in camerino, lei aveva manifestato un chiaro fastidio per il tempo che si dedicava alla rivale, ma Valentina non gli fa sconti, lo tratta male e lo manda via minacciando di non tornare, Maria nota che c'è un'aria tesa. Per la loro esterna Valentina sceglie il lungo tevere e fa trovare ad Andrea un lenzuolo con la famosa scritta scegli mi abbracciandolo gli dice che non ce la fa più ad aspettare, lui si dice preoccupato per la vita sociale molto brillante di lei ma si sciolgono in un bacio con relativo abbraccio e lei non nasconde di avere un grande desiderio di lui, in studio lei spiega che con lui è sempre come la prima volta. Ma Andrea stupisce tutti dichiarando che per lui oggi è una giornata strana, con la voce emozionata spiega che ha un po' d'amaro in bocca perché, dopo aver visto l'ultima puntata da casa è rimasto deluso da Valentina che non ha speso una parola per loro ma ha solo criticato i difetti della rivale. Sharon capisce che non sia un buon momento ma aggiunge che se lui non è preso da nessuna deve fare quello che sente. Tra morbidi cuscini Andrea guarda il video preparato da Sharon mentre la sua voce gli fa una importante dichiarazione d'amore, poi arriva e i due parlano della loro situazione e Andrea spiega che di entrambe apprezza le qualità ma ribadisce anche i loro rispettivi difetti e dichiara che in quel momento non sceglierebbe nessuna. Tornati in studio Valentina in lacrime si dice assolutamente demotivata perché lui dovrebbe entrare nella vita altrui in punta di piedi, ma lui non l'ha fatto. Andrea è sempre più stranito, Sharon ricorda che lui disse di poter capire se una persona era quella giusta in tre ore, lui nega mattina interviene, il problema non sono le ragazze, è lui che deve fare chiarezza in se stesso e infine lui ammette di provare affetto per loro ma di non essere spinto ad una scelta, Maria gli ricorda che è da un po' che prova a farglielo capire, Andrea è dispiaciuto di dover ferire la loro sensibilità, Sharon dice che preferisce questa ammissione che una finzione. Valentina invece è arrabbiata, anche perché non ha apprezzato il riferimento al fatto che ha visto troppe foto sue con il bicchiere in mano e fa per uscire, ma Teresa le dice che lui le ha sempre fatto capire di non essere innamorato di lei, Gianni dice che lo ha fatto capire anche a Sharon e Jack, sempre gradito ospite, gli chiede perché le ha tenute mandando via tutte le altre se non aveva le idee chiare. Rosie, pubblico, gli dice che è molto delusa da lui, mentre Tina apprezza la sua onestà a pronte di scelte televisive di altri e Andrea difende la sua onestà, sottolineando che non è facile ammettere quello che prova. Maria è convinta che lui quando andava a casa loro era senz'altro sincero, ma lo invita a frenare proprio quando parte a mille, come dice lui, perché in effetti nella loro vita è entrato come un ciclone e il suo è un atteggiamento masochista. La decisione di oggi deriva anche dalla visione della scelta altrui, quando vede l'interesse degli altri e lui non prova le stesse sensazioni, secondo Maria quello di Sharon sarebbe stato un no, Andrea pensa il contrario, ma l'interessata riconosce che ultimamente non era più felice, è più matura di come lui la reputa e ha bisogno di una persona con le spalle forti, poi Andrea vuole ballare con Sharon e le parla a lungo mentre lacrime le rigano il volto, poi salutano Maria ed entrambi lascianolo. Studio. Il nuovo tronista e soprattutto le corteggiatrici al buio aspettano fuori. È il momento di Teresa a farle compagnia nel momento più speciale ci sono due amiche, quindi partono le più belle immagini del suo percorso con Fabio che poi entra salutato dal consueto applauso. Anche per Salvatore e Teresa c'è il contributo filmato che ripropone la loro storia e poi entra anche lui e anche per lui il pubblico esulta. Fabio dice subito che non gli è piaciuto il viso di Teresa mentre guardava il loro video, Salvatore sta bene così. Si rivede l'esterna a Venezia e la reazione di Fabio che non ci sta a vedere la loro storia d'amore, Salvatore invece non accetterebbe di vederla ribacciare Fabio e se ne andrebbe, l'amarezza di lei è tanta e, dopo la puntata, lo raggiunge in camerino, i due litigano ancora, lui ribadisce la sua convinzione, lei vorrebbe che la capisse e che lottasse per lei, si salutano molto male ma lui questa volta non nasconde il suo turbamento, tanto che lei torna da lui che le dice, quando ti ho baciato. Ti ho dato tutte le risposte. In studio tra Salvatore e Tina parte un nuovo battibecco, il fatto che lei scriva di lui su FBI lo irrita a tal punto che Fabio decide di prendere le difese dell'opinionista, ma Salvatore non ci sta e fra i due si rischia il contatto fisico poi lui esce, mentre Tina non raccoglie l'invito di Maria di ricordare che è il giorno della scelta di Teresa, quando rientra Salvatore si scusa con Teresa perché oggi è il suo giorno e, dopo una lunga disquisizione di Maria, lui stringe la mano a Tina. Un video racconta il malessere di Salvatore dopo la litigata con Teresa, non nasconde le lacrime e non si spiega come lei non capisca i suoi sentimenti quando basterebbe guardare il loro bacio. Maria annuncia l'esterna con Fabio e chiede a Salvatore se è fermo nel suo proposito di abbandonare in caso di bacio, lui conferma e chiede se deve avere paura, Maria annuncia poi che lui, dopo la lite con Teresa, non si è presentato all'esterna, intanto parte quella con Fabio, l'aspetta in un parco e poi che la vede come una principessa la porta a spasso su una carrozzella, poi cena di gala in un castello, come si addice nelle favole, il brindisi è alla scelta giusta perché il suo sarebbe un. Sì e mentre ballano ecco che dal cielo piovono i petali rossi, Teresa è commossa e grata. Salvatore non gradisce affatto ed è necessario ancora una volta l'intervento di Maria per placarlo e spiegargli che il rivale si è comportato con correttezza, anche questa volta gli chiede di stringere la mano al rivale poi i due ragazzi escono, Maria vorrebbe presentare il tronista ma Teresa vuole fare presto presto e chiama Fabio, lo ringrazia e gli dice non meriti di essere la mia scelta perché meriti una ragazza che ti scelga con tutto il cuore e questa non sono io, e gli restituisce la. Con la nina della nonna, lui esce subito perché sta male. Prima di chiamare Salvatore lei invoca, con un filo di voce, di aspettare un pochino, Maria le chiede se teme o no, lei risponde che in caso lo menerebbe ma Maria dice subito che lo menerebbe lei, Tina uscita commossa da Fabio, rientra in quanto gentildonna, poi lei e Salvatore sono finalmente di fronte, lui non sorride ma dice di non essere agitato, quando lei gli dice che è lui, Salvatore non risponde ma parte un video che lui ha preparato per lei se stai guardando questo video è. Perché io sono la tua scelta e la mia risposta è questa si accende una scritta di fuochi di zero artificio che recitano sono innamorato di te. L'abbraccio fra loro non finisce mai, Maria è contenta per loro e proprio a lui dice bravo Salvatore, lui ringrazia commosso soprattutto Gianni e Jack che lo hanno sempre sostenuto, qui lascia un pezzo di cuore e si sente a casa, Maria gli dice che a Teresa piaceva fin dal primo giorno ma lui ammette di non averlo capito subito. È il momento della presentazione del nuovo tronista Amedeo che, a suo tempo corteggiò Teresa, ragazzi e ragazze, lui è di Napoli e non si è mai innamorato, dopo il video arriva in studio, ma a sorpresa Maria va a prendere Fabio dal backstage e lo fa sedere sul trono, il suo nuovo posto, mettiti in gioco, gli dice, Tina ringrazia sentitamente, quindi entrano le corteggiatrici al buio e mentre si ambientano Valentina comincia a conoscere i ragazzi che si presentano e Mattia ottiene la raccomandazione di Salvatore al quale Maria chiede se fra le ragazze ha notata qualcuna, i due nuovi tronisti sono un po' frastornati e non si pronunciano ancora, così prende l'iniziativa una di loro e parte il primo ballo per tutti i nuovi che cominciano a sciogliere il ghiaccio. Una felicissima Tina balla con Fabio e si fa fotografare con lui, poi saluta tutti.